La scuola di Amicis è uno degli esempi di mancata ricostruzione all'Aquila. Partendo dal presupposto che avrà una nuova vita, una nuova destinazione d'uso, perché il sindaco Biondi ha più volte chiarito che non sarà più una scuola, la di Amicis per dieci anni è stata imbrigliata dai tubi innocenti che hanno oscurato la facciata. Una storia che ha avuto un lungo periodo di gestazione, ma ora finalmente la vicenda si è sbloccata, impantanata per anni in corsi e ricorsi da parte delle ditte. A San Bernardino però ora qualcosa si muove e all'interno gli operai stanno lavorando. Il cantiere dunque è di nuovo aperto, la di Amicis è uno dei simboli del terremoto. Una storia di appalti e di revoche e anche di donazioni importanti, le amiche per l'Abruzzo, Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, altre cantanti che hanno contribuito raccogliendo più di un milione di euro in questi anni, tanti gli appelli per far sbloccare il tutto. L'ultimo capitolo di questa storia c'è stato lo scorso 2 ottobre, il giorno in cui era prevista la consegna dei lavori, una consegna che si rivelò solo simbolica perché la MGM di Latina aveva fatto trovare il cantiere chiuso con un lucchetto annunciando ricorsi. La storia, come si diceva, è lunga. Nello scorso luglio il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto l'appello proposto dal provveditorato sulla vicenda della scuola di Amicis, dichiarando quindi inammissibile il ricorso della MGM Construction. L'appalto per la ricostruzione era stato vinto nel 2013 da una ditta che venne dichiarata decaduta per non aver confermato il possesso dei requisiti. Fece ricorso ma lo perse e subentrò la MGM di Latina che dopo aver sottoscritto contratto e redatto il progetto esecutivo però perse i requisiti di legge per eseguire l'opera. Da qui un lungo contenzioso finito davanti al Consiglio di Stato che ha fatto prevalere le ragioni del provveditorato alle opere pubbliche. Poi è stato stipulato il contratto con il Consorzio 6 Società Edilizia Integrata SCAR di Roma, un edificio questo che ha più di 600 anni di vita e che più volte ha cambiato destinazione d'uso perché all'inizio, fondato da San Giovanni di Capestrano, era un ospedale.